Dopo la tre giorni dedicata agli esami cardiologici specialistici, il Comune di Bari ha deciso di primare l'impegno dei medici dell'Università del Capoluogo che lo scorso fine settimana si sono prodigati per la salute dei baresi. La campagna in questione è quella del Track Tour Banca del Cuore 2022 durante la quale oltre 346 baresi, 159 uomini con età media di 62 anni e 196 donne con età media di 57 anni si sono sottoposti a screening gratuiti come ECG, rilevamento della pressione arteriosa e dosaggio di alcuni parametri metabolici fattori di rischio per l'insorgenza di malattie cardiovascolari come colesterolo, trigliceridi, glicemia ed uricina. Abbiamo intercettato anche alcuni pazienti che avevano delle aritmie che non sapevano di averle ma soprattutto dei quadri metabolici alterati quindi diabete e pazienti con colesterolo per esempio molto alto che sono i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Tantissimi dei medici che hanno offerto il loro tempo durante la Banca del Cuore ora saranno al servizio anche dei due poli ambulatori sociosanitari che abbiamo creato nella città di Bari a sostegno degli over 65. Ci sono ormai 5 anni che questo trucco gira per tutta l'Italia e ha una tappa fissa e la nostra amministrazione è molto devota a questi medici ospedalieri perché oltre ad effettuare degli esami del sangue importanti e anche visita cardiologica riescono anche a dare dei consigli necessari per poter migliorare il proprio stile di vita.